C'era una volta, in un paesino in riva al mare, un bambino che era uscito a giocare. Un giorno una vocina gli parlò e come coronavirus si presentò. Il bambino un po' impaurito gli chiese cosa fosse e la cosetta in risposta la sua tosse smosse. Il bambino non capì e all'improvviso starnutì, quindi credette di essere ammalato e scoprì troppo tardi di essere stato contagiato. Il virus lo fece preoccupare e il bambino pensò che a casa dalla mamma sarebbe dovuto tornare ed appena lei lo vide stare male, decise che era meglio portarlo in ospedale. I medici gli dissero che non era cosa grave, ma che per sicurezza doveva stare in casa chiuso a chiave. Il bambino corse in stanza e capì che col virus fuori dagli altri bisognava prendere distanza. Dopo qualche giorno si sentì di nuovo bene e vide che le televisioni delle notizie del virus ne erano piene. La mamma quindi gli disse di lavarsi bene le mani perché la salute sta nei piccoli gesti quotidiani. Con questo il bambino ha imparato che con delle semplici regole dal virus puoi essere curato. Quindi ognuno il mondo può sostenere dicendo a tutti che andrà tutto bene.